Salve, un saluto da Herbert Matry, 1939 del Pielo, adesso vi faccio vedere un gioco antico Total NBA 97, che sulla Play 3 riesco a far andare Guardate qui, amichevole Minnesota Timberwolf contro i Lakers Guardate Garnett, cosa fa? Dopo tanti tentativi, Garnett è riuscito a segnare un canestro veramente bello Vediamo qui, Kevin Garnett Un grandissimo canestro Grazie, un saluto da Robert Matry, 1939 del Pielo, canestro di Kevin Garnett In Total NBA 97